Siamo qui nel centro di Ayrasca, in via Roma 190, dove noi dell'immobiliare abbiamo preso due alloggi da affittare. Venite a vederli con me. Siamo al primo piano. Intiamo a vedere l'alloggio. Questo è uno spaziosissimo quadrilocale, disimpegnato da questo ingresso molto regolare, con una zona giorno che prevede questa cucina abitabile, molto grande. Questa è la parete su cui andare a piazzare la cucina. L'alloggio è su tre aree, due delle quali hanno dei balconi molto ampi, come questo. Nella fattispecie, questo affaccia sul cortile giardino comune e i box auto, dei quali uno è direttamente collegato all'alloggio. Questa è la visuale che si può apprezzare. Sempre per quanto riguarda la zona giorno, si potrebbe andare ad adibire una di queste tre camere, che sono più o meno tutte funzionali alla stessa maniera, anche per dimensioni. Nella fattispecie hanno lasciato prima, anteriormente, le due camere da letto col parquet, mentre questo era destinato ad essere il soggiorno. Un soggiorno che, come vedete, è molto luminoso, molto spazioso, e che prevede un balcone altrettanto grande come quello che abbiamo appena visto nella cucina. Passiamo quindi alle nostre due camere da letto, come detto, parchettate, regolari, ed entrambe sulla faccia ai due balconi che abbiamo già visto. Questa è l'altra. Relativamente al disimpegno abbiamo qui il ripostiglio, uno spazio molto utile per l'accattastamento della roba. Alle spalle del ripostiglio troviamo il bagno, un bagno di tutto rispetto per quanto riguarda le dimensioni, che attualmente prevede una vasca doccia con sul boiler, e gli attacchi per la lavatrice qui, alla mia sinistra. Vi ricordiamo che l'alloggio è correlato anche da un'autorimessa nell'interno fruttile, molto ampia, ma comunque per una sola macchina. La richiesta del Canon è pari a 380 euro, mentre le spese mensili sono di 70 euro. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!